La sanità altogardesana è ormai tra i temi principali di cui si occupa il consigliere provinciale Luca Giuliani. La sanità privata in Trentino è una risorsa da preservare e valorizzare, senza se e senza ma, afferma il membro del Partito Autonomista. L'ottima qualità dei servizi che erogano e il costo contenuto delle prestazioni devono essere considerati per ridurre le spese sanitarie della nostra provincia e in particolare quel debito passivo che vede molti trentini andare a curarsi fuori regione. È evidente e scontato che la mia attenzione sia posta nell'arrivare a quell'accordo che ad oggi non permette a nessuno di avere serenità, nemmeno a Chiarano, che ormai da anni attende che la struttura proceda con l'investimento tanto agognato e che consegni il parcheggio al Paese come promesso. Ovviamente non posso neanche immaginare che ci siano alternative diverse, si profilerebbe un problema di tipo politico. Assicuro che la provincia attraverso l'assessore Zeni è disponibile a trovare le soluzioni adeguate, quindi i dipendenti di Eremo possono dormire sonni tranquilli. Giuliani è tra i sostenitori dell'integrazione tra sanità privata e pubblica e infatti afferma ad oggi il potenziamento della cardiologia ad arco può passare in parte anche dalla sanità privata, ad esclusione, per questioni logistiche, di tutta l'attività di supporto nella valutazione e trattamento dei pazienti cardiologici del pronto soccorso e degli altri reparti e il controllo dei pacemaker e defibrillatori.